Badolato Euro-Girifalco finisce con la vittoria dei padroni di casa con il risultato di 3 a 1. Il Badolato passa in vantaggio al decimo minuto grazie a un gol di Catanzariti. Il raddoppio sul finire del primo tempo con Autorette di Tourè nel tentativo di anticipare Valente su calcio d'angolo. Il secondo tempo vede gli ospiti in avanti nel tentativo di recuperare il risultato senza tuttavia riuscire a rendersi più di tanto pericolosi. Arriva la terza rete del Badolato ancora su autogol, questa volta di Vitaliano sempre nel tentativo di anticipare Valente su un calcio di punizione a Spioventi in area di rigore. Nel finale l'Euro-Girifalco riesce ad andare in vantaggio e realizzare meritetamente la rete della bandiera. 3 a 1 finisce Euro-Girifalco che comunque non ha demeritato, ha dimostrato di avere un ottimo gioco e si è sempre proposto in avanti fino alla fine. Ne parliamo con Ferraina. Allora Ferraina, una sconfitta che però non mi vede uscire a testa alta dalla rocca di Badolato. Sì, buonasera. Una vittoria che ci serva da lezione specialmente perché dopo le feste, così come è successo a Natale, abbiamo anche patito a Pasqua la stessa sorte. Abbiamo perso con la vigore e ora al ritorno dalle feste perdiamo anche con il Badolato. Un 3 a 1 giusto per il Badolato, la vittoria giusta per il Badolato anche se è scaturita da due sfortunose autoretti, una di Tourette e una di Vitaliano che purtroppo hanno fatto sì che la partita volgesse tutta a favore del Badolato. Si tenta sempre di giocare la palla su campi che comunque non siamo nemmeno abituati a giocare tanto sui campi di airbet, però cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco. Purtroppo qui oggi a tratti è stato fatto, a tratti non è stato fatto. Ci serve da lezione andare avanti, lavorare e terminare il campionato, queste ultime quattro partite che restano, a onorarlo fino alla fine e cercare di fare più punti possibili fino all'ultima partita di campionato. Siamo con Lentini per commentare questa vittoria del Badolato che continua ad avanzare in classifica. Un risveglio tardivo Lentini, un Badolato che ha fatto un girone di ritorno fantastico. Sì, diciamo di sì. Possiamo dire che durante l'anno fino a dicembre abbiamo avuto un po' di problemi, soprattutto per i ragazzi, per i grandi, un po' con allenamento, per vari motivi, per il lavoro. Poi invece a dicembre abbiamo preso anche qualcuno, abbiamo preso il bomber valente che ci ha dato una grossa mano, ci ha fatto i gol che ci servivano per rialzarci subito. Poi nel giorno di ritorno abbiamo fatto parecchi punti, non abbiamo mollato, ci siamo ricompattati e siamo saliti su in classifica. Andiamo alla partita di oggi, una vittoria meritata con due gol in autogol, abbiamo detto prima, ma intanto c'è stata una correzione. Il secondo gol sul tuo lancio dobbiamo darlo a Valente perché il tocco è prima di Valente, poi la deviazione che va in porta è da segnare a Valente sicuramente la seconda rete. Tre tuoi asti hanno messo in condizione agli attaccanti o ai difensori di deviare in rete. Sì, diciamo che è andata bene, hanno messo tre bei palloni, però sono stati bravi anche loro. Come dicevo prima, Nicola Valente che è un falco in area di rigore, quando arrivano quei palloni non sbaglia mai. Grazie. Grazie.